Buonasera a tutte e a tutti, vi ringraziamo per essere qui, noi abbiamo pensato di organizzare questa serata, questa presentazione in due tempi, due momenti, ce ne sarà una prima parte in cui Matteo mostrerà una serie di immagini che racconteranno quella che è l'avventura incredibile di questo libro, di questo corso, di questo laboratorio, di questa invenzione incredibile, questa intuizione anche che ha avuto Matteo e che sta continuando ad avere per nostra fortuna, poi ci sarà una seconda parte in cui diagoleremo un po' di più, ci saranno un po' più di domande e anche quelle temutissime dal pubblico, in cui vi chiediamo già di immaginare, chi magari ha già partecipato a qualche edizione, se è presente qui, può cominciare già a pensare a qualcosa da chiedere a Matteo. Se ci sono degli ex partecipati. Esatto. Si, si, più ci sta, ok, va bene. E ti lascio la parola adesso Matteo, prego. Quindi cominciamo con la parte… Sì, direi di sì, direi di sì. Grazie, grazie Francesco, buonasera a tutti, benvenuti, grazie al Circolo per l'invito, sono molto emozionato perché è la prima volta da quando mi sono trasferito, cioè da quando sono qui a Torino, che sono qui al Circolo a Parlamento, sono sempre venuto, ho visto stessali, dico pensa a parlare lì che cosa pazzesca e adesso sono qua. Quindi ho fatto con lui, ho preso il bicchiere di Ruchet che ha funzionato e siamo per quello arrivati in ritardo, nessuno ci ha avvisati, colpa del Circolo. Io adesso farò… in realtà le intuizioni non è che uno può continuare ad averle, tu hai detto una cosa impossibile. No, no, me ne rendo conto, però dipende su che cosa poi hai un'intuizione. No, prima una poi finisla. Sul laboratorio, poi ce ne sono tante altre. Dunque, la speranza è di condividere con voi in qualche modo, non proprio tutto il percorso, ma quello che è accaduto 12 anni fa, l'idea di iniziare la cosa che ha poi portato. Ma c'è anche una registrazione di tutto, perché mia moglie non è venuta, mi ha tutto il pomeriggio bombardato dicendomi che io parlo troppo, di stare attento e di non aprire le parentesi. Adesso lei non c'è perché è rimasta a casa, quindi o starò zitto per l'emozione o parlerò troppo, quindi due cose diverse. No, no, vai, vai, vai. Allora, io in genere inizio le mie presentazioni, se ci sono le persone che hanno partecipato dei lavoratori, inizieranno a sbadigliare dicendo che io sono nato a Milano un po' di tempo fa e a Milano ho studiato architettura dove in teoria sono diventato architetto e nel 95 in pratica me ne sono andato. E sono andato negli Stati Uniti, a New York, dove ho cercato di capire che cosa fosse l'architettura viva, quella che si fa attivamente, non quella di cui si parla del passato e ho fatto molte esperienze nel campo dell'architettura, tra virgolette, vera, cioè io in teoria volevo fare l'architetto, poi non è accaduta questa cosa, tristemente, e ho iniziato a disegnare moltissimo, soprattutto la città di New York. Poi quello che non faccio vedere di solito è che nel 2008-2009, la data, continuo a dimenticarla, mi sono trasferito a Torino, sempre mappe di città antiche, un po' perché qui da queste parti del globo ci portiamo dietro l'idea che le città siano veri cosi conclusi che iniziano e finiscono, negli Stati Uniti questa cosa non è così, e quando sono arrivato nel 2008-2009, non ricordo bene, quindi sono qui a Torino da più tempo di quanto fossi a New York, mi sono imbattuto nella allora scuola Holden, allora di Corso Dante, cioè sia la scuola Holden sia Corso Dante esistono ancora, ma allora c'era questo posto che era diverso da quello che credo c'è adesso, l'edificio e molte altre cose, e lì mi fu chiesto all'inizio di riversare a modi, cioè avevo portato la gerla, di buttare giù la gerla e buttare a loro, poveri, i suoi predecessori, tutto quello, è già passata l'altra immagine? Tutto quello che avevo combinato, sono talmente emozionato che il dito mi va da solo, tutti i disegni che avevo fatto per esempio delle città srotolate in lungo e in largo, New York, Londra, poi all'aeroporto GFK, poi ho finito per fare anche un pezzo di Torino dopo, e poi anche le finestre, un progetto che è andato avanti per 15 anni di ossessioni, disegnare le finestre, che mi ha fatto ammalare, e sempre alla ricerca degli altri punti di vista o alcuni punti di vista che rivelassero qualche cosa di particolare su cosa vediamo, come vediamo, che cosa succede alla nostra mente quando guardiamo, eccetera. Dopo tutto questo avendo riversare della gerla dentro la scuola, mi fu chiesto da persone volenterose, vogliose di sapere, fai un altro corso, che allora si chiamavano Cestelli, dei nomi, io lo chiamavo Cestellone perché volevo fare una cosa più grossa, e offrici, non so se stasera c'è qualcuno, non credo, di quegli anni della scuola Holden, di chi dirigeva, ma mi fu espressamente chiesto, puoi fare qualcosa di più? Cioè che chieda o offra qualcosa di più? E io, distinto veramente distinto, dissi, ma voi, rivolgendomi a delle persone che volevano scrivere, che leggevano tanto, che volevano diventare scrittori, scrittrici, ma voi che leggete sicuramente tanto e che avrete sempre tra le mani dei testi ai romanzi e conoscete benissimo tutto questo materiale, vi trovate alle volte in mano o di fronte a qualche cosa di strano che per me è particolare, cioè per esempio l'architettura di un romanzo, e il desiderio di chiedere ma che cos'è l'architettura di un romanzo? Cioè voi che ne parlate, usate questi termini, no? Cioè come fa a stare in piedi l'architettura? di un romanzo? Cioè come funziona? In che modo la percepiamo? In che modo la percepite voi? La domanda era ovviamente, ma soprattutto poi può essere costruita se esiste. Questa era la domanda istintiva che fece alle persone che mi chiesero vuoi offrire qualcosa di più? E loro, contrariamente a qualsiasi logica, dissero perfetto. E io nell'offrire questo corso, o cestello, dissi durante la primissima edizione del laboratorio, io ho sempre provato questa strana sensazione quando sono immerso nella lettera. Io leggo come chiunque altro, cioè leggo dei romanzi, articoli, saggi, nulla di... Però la sensazione a un certo punto di entrare in un testo, di trovarsi in qualche modo ovattati, tolti da tutto quello che c'è fuori e improvvisamente vedere che sia all'interno di una struttura che qualcun altro ha costruito. Quel qualcun altro è lo scrittore, la scrittrice, cioè c'è una sensazione sinestetica molto forte del funzionamento della storia, dell'architettura che sta in piedi, eccetera eccetera. E poi allo stesso tempo questo ingresso affogarsi nel libro, io potevo dire da tra virgolettissime architetto, per me è identico per l'architettura, cioè io ho studiato, ho la laurea, so che cos'è il Pantheon, quando è stato fatto, dove, perché, non mi ricordo neanche se si sa da chi posso dire qualche cavolata, ma nulla, nessuna informazione di questo tipo mi può in nessun modo preparare alla sensazione di io, del mio corpo all'interno di uno spazio molto grande, del fatto che il Pantheon io me lo aspettavo molto più piccolo quando l'ho visto davanti a me, del fatto che il prono è un'introduzione, è una preparazione a ficcarsi dentro l'ingresso e improvvisamente la sfera, la semisfera, perché allora le cupole erano semisferiche, con il vuoto in mezzo mi risucchiava la testa. Queste sensazioni erano impossibili da sapere in anticipo ed era come avere informazioni su un libro e in qualche modo non riuscire, non avere modo di entrarci dentro se non leggendolo. Quindi io vi si chiesi a questi 28, erano ragazzi e ragazze, se una storia fosse fatta di una struttura architettonica spaziale, tangibile, percepibile, eccetera, eccetera, come potrebbe essere fatta voi che le conoscete così bene? Ovviamente mi guardarono tutti con questa emoji perfetta che ho trovato, cioè con il viso stralunato e quindi per far sì che questa domanda iniziasse ad avere un qualche senso, cioè perché io potessi offrire il mio punto di vista, che era quello che dicevo prima, la ribaltai e dissi ok, iniziamo allora a guardare delle architetture, chiedo scusa, questo il dito mi trema, e se queste architetture allora, visto che esistono le architetture dei romanzi, guardiamo delle architetture e immaginiamo che siano delle storie per gioco, proprio senza sapere che cosa sono, di chi sono, chi la fate, quando, eccetera, eccetera. E quindi ricercai veramente a caso online decine e decine di immagini, queste sono solo alcune, e iniziai con piano piano a dire ok, se la storia è rappresentata dallo spazio, questa qui, mi è perdito ancora il dito, il dito tremulo, esatto, chiedo scusa, questa evidentemente è una storia di una semplicità incredibile, cioè c'è bisogno di proteggersi e quindi mettiamo un capanno, un tetto, un qualche cosa. La stessa idea molto semplice di storia spaziale, cioè di articolazione dello spazio, è questa, solo che le due falde la rendono un pochino più articolata, cioè la protezione è uguale, l'idea magari narrativa è la stessa, però c'è un pochino di articolazione. Poi possiamo fare dei salti, immaginare che il materiale con cui io dico, dico, offro questa storia spaziale diventa più sicuro, più solido, quindi so di che cosa sto parlando spazialmente, e improvvisamente o addirittura ci ficco una porta, che si chiama porta, ma un buco che indica qual è il modo per arrivarci, per entrare, e quindi anche per dare forma e vita a quello che succede dentro. Quindi lo spazio si articola già in maniera un pochino più complessa, interessante. Poi rivoluzione delle rivoluzioni, e arriva uno con un martello, un piccone, che spacca un muro, un muro, gli crea un buco, toglie, asporta, aggiunge una finestra, non si sa come si possa dire ontologicamente, cioè aggiunge una cosa che non c'è, e da dentro, quello spazio dove siamo entrati, vediamo il mondo inquadrato da una cornice, che non ci permette poi di interagire, quindi si crea una separazione narrativa pazzesca. Quindi in quattro, qui le animazioni, io non so se avete notato il livello. No, no, io provo sempre una grande invidia, ci sta l'applauso assolutamente. Fa delle animazioni, sono formidabili. È come se in quattro sole immagini avessimo fatto già un percorso narrativo, cioè dalla semplicità di quella prima copertura, la doppia falda, l'unico ingresso è la finestra. La storia spaziale si è, Nilde sì, ha una domanda, la storia si è in qualche modo articolata. Poi per esempio andiamo avanti quindi a salti pazzeschi, mettiamo davanti alla storia fondamentale un porticato, quindi improvvisamente io sono fuori, sono in un altro mondo, devo salire qualche gradino, quindi mi distacco da quello che è il mio contesto, mi trovo in uno spazio che non è né dentro né fuori, sento che c'è una tensione ad andare verso il cuore della storia, però sono ancora metà per metà fuori, idea pazzesca. Poi la si può stravolgere, mettere tutto intorno, per cui da ovunque io arrivi a quel racconto, a quella narrazione architettonica e spaziale, io ho un momento di transizione, posso addirittura iniziare ad andare intorno prima di avere il desiderio di entrare in quel posto. E qui si scatena, diciamo, quell'altro salto che dovrebbe e fa capire che l'architettura ci parla esattamente come ci parlano le storie, perché le persone che costruirono il Partenone volevano che noi vedessimo armonia, che vedessimo equilibrio, volevano che noi notassimo che le cose si poggiano con dolcezza. In realtà per far sì che noi notassimo tutto questo, si sa, sappiamo che dovettero distorcere, non così tanto, ma in maniera notabile, le scalinate dove ne sono arcuate, il timpano doveva abbassarsi, le due colonne ai lati dovevano avvicinarsi, perché loro sapevano che la nostra mente distorce quando guarda. Quindi nel discorso della grammatica e della sintassi, incredibilmente, ricordatevi la primissima capanna, loro sapevano come noi leggiamo e quindi ci raccontano la storia come noi poi riusciamo a capirla. E quindi è evidente che tornando al Pantheon di prima, cioè ci vuole abbastanza poco per il gruppo di persone che sta per poi costruire il plastico della sua storia, a capire che il prono, diciamo, è una parte introduttiva, una specie di incipit in cui noi ci avviciniamo e abbiamo una prima sensazione di quello che sta per succedere, c'è una compressione con l'ingresso e un'esplosione della storia spaziale con la parte terza. Quindi c'è un chiaro sviluppo tipo ABC della storia. E ritorniamo a queste immagini, quindi c'è uno sviluppo della storia, a questo punto possiamo addirittura immaginare che è la stessa tipologia di storia, quindi io sono in uno spazio oblungo, in parallelepipedo con in fondo una luce, per cui mi sento spiritualmente attratto, legato alla lucetta come le mosche che vanno verso la finestra in casa e questa cosa mi fa sì che io senta delle emozioni. Duemila anni dopo la stessa idea identica viene costruita, raccontata con le tecnologie del momento, ma la sostanza è la stessa, cioè le storie dove uno A si innamora di B, però B purtroppo è innamorato di C e A e C si prendono o a cazzotti o uno uccide l'altro o non si sa, sono state raccontate nei secoli, però la modalità in qualche modo è dovuta cambiare. Per esempio a proposito di linguaggio e di voce, immaginate addirittura una persona che dopo l'università e gli studi di architettura decide, fa un progetto dove si vede che è impregnato ancora del passato, delle modanature, delle cornici, perché c'è un legame, perché noi lo studiamo eccetera eccetera e dopo una ventina d'anni, neanche vent'anni, esplode la stessa persona che si chiamava Le Corbusier con un linguaggio evidentemente sconvolgente dove la semplicità, il quanto fosse diretto, ci sconvolge tutti, perché noi stiamo guardando queste immagini ricordate dal punto di vista narrativo, quindi da che storie raccontano, quindi a cavolo ho sbagliato il bottone, quindi ricordatevi che noi eravamo partiti da lassù, la strada fatta in queste poche immagini è gigantesca, siamo partiti da uno schema narrativo estremamente semplice, siamo arrivati a una storia pazzescamente sofisticata, una sorta di casa dentro la quale noi possiamo vedere il mondo in maniera diversa e continuare ad entrare, uscirci e capire forse meglio anche chi siamo. Infatti a un certo punto del percorso mi fu mandata questa citazione di Alice Munro, la scrittrice canadese di racconti, che dice questa cosa. Proprio questa citazione qua era una delle citazioni dove noi studenti della scuola Holden all'epoca, perché io ti ho conosciuto nel 2012-2013 quando ero uno studente della scuola Holden e avevo frequentato questo corso. La scuola Holden all'epoca era qualcosa di profondamente diverso rispetto a quello che c'è adesso, era molto più piccola, l'immagine che tu hai mostrato appunto era quella di una piccola palazzina Liberty che si trovava in Corso Francia, c'erano 30 studenti ogni anno, Corso Dante, scusami, Corso Dante, 30 studenti ogni anno e c'erano, diciamo così, le lezioni lunedì e il martedì di narrazione narrativa, cinematografica, eccetera, eccetera, e poi c'erano questi corsi, c'erano i cestelli. Uno di questi cestelli era il laboratorio di architettura letteraria dove io mi getto proprio a farlo, a praticarlo, a scoprirlo e mi ricordo due, ancora adesso, a distanza di un po' di anni, due sensazioni fortissime ancora adesso. La prima è di esserne venuto fuori prostrato, proprio fisicamente e mentalmente, una cosa stancante, davvero moltissimo. Questo perché? Perché da un lato c'era quell'aspetto proprio della materia, cioè di avere a che fare davvero con i cartoni, i cartoncini, la colla, la costruzione di quella che poi può essere la struttura della storia che uno ha immaginato. Dall'altro lato anche mentalmente, perché la storia che io poi avevo cercato di trasformare, di visualizzare nella struttura, è un romanzo a me molto caro, che è Ferito a morte di Raffaele La Capria. Quando io ho cercato di rendere la struttura di questo romanzo, mi ricordo, avevo appena iniziato, insomma così, di aver fatto subito l'unico errore che partecipando a questo corso non bisogna mai fare, cioè avere la capacità di portare avanti un'interpretazione che sia il più possibile letteraria e non letterale. Questo che cosa vuol dire? Che questo romanzo, che è caratterizzato da una incredibile salti avanti e indietro nel tempo, perché c'è un personaggio che ricorda determinate cose e soprattutto con il mare ha molto a che fare, io mi ero detto subito, vabbè Matteo faccio questo edificio, questa struttura, ci mettiamo dentro un bell'acquario, una bella piscina e quindi abbiamo risolto praticamente tutto. Niente di più sbagliato e quindi Matteo proprio mi costrinse in un certo senso a proprio immaginare davvero in profondità quella che era l'idea alla base di questa storia, di questa narrazione. All'epoca, e qui ci sta anche un po' come dire, di spazio per dire quali sono i miei rapporti con Matteo e con questo laboratorio, subito dopo che cosa accadde? Che noi continuiamo a collaborare e a lavorare insieme con un altro tipo di avventura che riguardava il baseball e tu lo sai, io dovevo avere una possibilità di parlare di baseball questa volta anche perché il punto di vista che Matteo ha su determinate materie è sempre molto laterale. Cioè lui si era chiesto, giustamente, com'è possibile che in una scuola che si chiama Scuola Holden tutte le persone che vanno lì e si iscrivano non conoscono il baseball, non sanno le regole del baseball. è una cosa sbagliata proprio perché la scuola Holden deve il suo nome a un personaggio che è Holden Colfield, cioè il personaggio protagonista del giovane Holden di Salinger che ha come momento forse più doloroso quello in cui Holden ricorda il fratello minore che ha 11 anni ed è morto di leucemia che aveva una particularità. Cioè lui era nei momenti di maggiore tristezza affascinato da un guantone di baseball all'interno del quale lui aveva scritto una serie di poesie che leggeva durante i momenti morti delle partite di baseball e Matteo durante questo corso mi spiegò, mi illustrò come una partita di baseball che ha una durata media di 4-5 ore, una cosa lunghissima. In realtà il tempo effettivo di gioco, cioè il momento in cui la pallina viene lanciato e con la mazza viene poi respinta, è di una manciata di mituti, niente di più. Questa cosa qui fa sì che io resto incredibilmente affascinato dalla mente di questa persona, del modo in cui affronta tutta una serie di questioni, anche quella dell'architettura, e poi cominciamo come dire, una sorta di percorso per cui io da studente partecipante dei vari laboratori di architettura laterale divento quelli che venivano chiamati all'epoca un tutore, cioè un tutor, cioè una di quelle persone facevano parte di una squadra che Matteo metteva insieme e che aiutava tutti i nuovi partecipanti ad avere a che fare con questa intuizione incredibile, cioè di immaginare una storia. Poi che cosa è successo? Che poi andiamo avanti un po' negli anni e che cosa accade? Che quando poi mi ritrovo a lavorare all'interno di un ufficio della Scuola Holden che è a fronte del Borgo, all'epoca c'era la direttrice, quella ancora attuale, Domiti Lapirro, ma anche Roberta Vasario, abbiamo subito pensato che il laboratorio di Matteo dovesse essere, diciamo così, uno di quelli proprio irrinunciabili, proprio perché dava la possibilità ai ragazzi non soltanto di venire fuori da un laboratorio incredibilmente in maniera prostrate, stanchissimi, ma con un'ottica e un punto di vista sulle storie completamente nuovo e completamente diverso e ovviamente molto di questo si sposava nel fatto che si usava molto spesso un linguaggio comune sia alla narrativa, alla narrazione, sia all'architettura, come questa citazione bellissima di Alice Murrow, che non aveva vinto il Nobel ancora all'epoca, dimostra in maniera assolutamente chiara e lampante. Sì, è stata una specie di legittimazione della cosiddetta intuizione iniziale, cioè il racconto, le storie hanno innanzitutto bisogno di esistere e nel loro esistere sono delle case non sono dei percorsi, infatti l'altro problema del laboratorio sono appunto i percorsi, cioè quello di voler tradurre una storia in un percorso. Ma perché non vai avanti a parlare? È bellissimo sentire la storia. No, no, vai, vai. In ogni modo, quindi andando avanti una volta entrati dal lato e trovandoci nell'architettura come vista delle storie abbiamo avuto la possibilità in effetti usando l'architettura di parlare di tantissime questioni che loro affrontavano dal punto di vista della narrazione, quindi le questioni del ritmo, cose che noi assorbiamo quotidianamente soprattutto a Torino con i portici, come mettere insieme i blocchi narrativi invece dei sequenzi magari di come incastrali, di come i personaggi o gli eventi si mescolano e si confondono uno dentro l'altro, oppure come le trame si muovono e si snodano quando sono indipendenti nel farlo oppure influenzate da altre trame che vengono da altri livelli narrativi, cioè l'architettura ci permetteva sostanzialmente di visualizzare questioni che altrimenti legate alla parola dovevano essere sempre discusse, conversate con altre parole e secondo me questo creava una specie di blocco, di soffitto che non si riusciva cane che morda la coda per esempio aspettative e tensione cioè gli architetti nell'architettura si gioca moltissimo si creano aspettative che poi si offrono o si disattendono oppure ci sono delle storie che hanno la sensazione di essere sempre state lì hanno solo bisogno di essere lasciate e venire in superficie e poi c'è la questione ovviamente evidentissima che è quella purtroppo più fotogenica che è quella della forma che non è altro che la voce con la quale chi ha architettato questi edifici si presenta a noi e quindi ci dà una sorta di più o meno fertile predisposizione alla lettura e quindi come diceva Francesco cioè dopo questo inizio assolutamente senza sapere che cavolo stesse per accadere si sono tutti riversati con carte e cartoncini a cercare di dare forma a delle idee e delle intuizioni che spesso noi abbiamo e non hanno ancora le parole attaccate cioè il bello è che noi viviamo purtroppo in un mondo in cui le parole definiscono tutto ma tra la definizione i significati c'è un enorme divario il significato ci muove il significato ha un effetto neurologico su di noi le definizioni sono dei lavori intellettuali durante i laboratori si lavora in questo modo si fa un grande caos e l'abbiamo portato come diceva anche in licei qui è il liceo a Torino allo Spinelli abbiamo le due persone qui che lo hanno voluto moltissimo i ragazzi sono trovati a costruire le storie c'è un liceo nel Maryland dopo che l'ho fatto alla Columbia University è uscito un articolo su New York Times e un insegnante ha detto basta il giovane Holden che tutti studiamo a 14 anni invece di darmi la relazione scritta sul giovane Holden costruitelo e vennero fuori dei progetti tutti uno diverso dall'altro perché anche questo è il lato più incredibile c'è la produzione ma dall'altro lato la ricezione crea dei mondi complementari l'altro lato della mandaglia che sono diversi per ciascuno di noi e poi la meraviglia del vedere le idee che prima non avevano nessuna forma erano solo delle sensazioni prendere forma e diventare degli edifici immaginando che attraversando quell'edificio le persone che lo faranno proveranno le cose che noi pensavamo di aver provato quando abbiamo letto un testo c'è una sorta di rigore lì dentro veramente pazzesco e soprattutto il momento della presentazione che terrorizza quanto infatti noi l'abbiamo loro non potevano bere il vino minorenni però noi abbiamo dovuto però al momento della presentazione si sentono queste concatenazioni appunto di idee sensazioni che portano dalle parole da un testo che non ha materia a un edificio che in realtà non solo ha materia e spazio ma è ineccepibile in tutti quei passaggi io ho solo assistito a tutte queste cose che succedevano offrivo sostanzialmente gli strumenti questa è un'altra citazione che sembra quasi un incipit ma non no questo non è un incipit questa è una cosa che accade a un certo punto di questo di questo racconto qui di M&M perché lo possiamo dire forse è il racconto del laboratorio di architettura letteraria nel senso che è uno di quei testi che uno diciamo così può provare a trasformare all'interno di una struttura un racconto bellissimo di questa scrittrice formidabile una scrittrice canadese se non sbaglio diciamo non specializzata però ha scritto dei racconti sempre meravigliosi che in questo racconto in questa storia fa una cosa veramente strana una cosa veramente molto particolare cioè il racconto è un racconto in prima persona ok c'è un personaggio un personaggio che dice io una donna una donna che racconta di aver avuto a un certo punto un incidente di aver subito un incidente stradale e inizia a raccontare questo incidente nel momento in cui inizia a raccontare questo incidente però ci dice anche una serie di cose una di queste che praticamente le persone con le quali lei parla hanno una versione leggermente diversa di quello che le è capitato cioè nel senso che lei ha subito un'operazione per cui in realtà lei ha subito 100 punti di sutura a queste persone dice di averne subite 180 perché lei è convinta che nulla è mai grave quanto potrebbe essere stato ok cominciamo però noi a seguire questa storia e andiamo avanti solo che a un certo punto arrivate a metà il racconto non è più lungo di 6-7 pagine una cosa veramente molto breve c'è uno stacco uno spazio bianco e comincia poi così ometto molte cose quando dico la verità e che cosa accade adesso la voce si rivolge al lettore comincia a spiegare delle cose e dice che sostanzialmente quello che ha raccontato nella prima parte non è vero è assolutamente falso e comincia a raccontarne delle altre perché che cosa accade che nella mente di chi legge quello che è successo nella prima parte diventava quindi una base sulla quale costruire tutto quello che stava accadendo poi nel successivo svolgersi del racconto va a accadere e quindi in un certo senso all'inizio siamo portati a credere a questa seconda parte dopo un po' ci rendiamo conto che non possiamo credere neanche a questa seconda parte per cui ci ritroviamo all'interno di uno spazio molto strano molto insolito in cui determinati momenti passaggi della storia parliamo di un racconto normalissimo scritto anche in una lingua assolutamente piana non ci sono alcune fioriture stilistiche né niente diventa però un luogo all'interno del quale avanzare con grandissima cautela e forse quello che resta alla fine è sicuramente però la sensazione di una mente che è sicuramente uno shock è un momento che ha disturbato e l'ha segnata per sempre è accaduto ma non è più possibile ricomporre questo racconto qui ha probabilmente fornito nell'esperienza del laboratorio dell'architettura alternale alcune delle non so immaginazioni più divertenti più interessanti ma come dice Francesco comunque facevamo la gara a chi era più agitato domitila cioè lui è pazzè è perfetto ma è vero sì lo abbiamo ci saranno stati almeno 70 80 progetti diversi di questo stesso racconto non uno non uno simile all'altro il che vuol dire che esistono esistono delle cose esistono delle architetture esistono delle storie ma senza l'altro lato che è quello di come vengono neurologicamente assorbite trasformate nelle menti delle persone che le percorrono leggono e viaggiano sostanzialmente la loro esistenza non è completa questi qui sono tre esempi di tre reazioni diverse al racconto questo è un primo progetto a Gerusalemme di un gruppo di tre studiose master PhD di letteratura comparata che non avevano mai manipolato nulla se non storie e improvvisamente scolpendo un pezzo di gesso e trasmettono la rabbia di quel momento dell'incipit di cui Francesco ha parlato prima nel quale dopo tutta la fatica di seguire la storia di questa persona le dice sai cosa io quando dico la verità ometto un sacco di cose bam secondo loro la fiducia cade il rapporto tra chi legge e chi ha scritto si scompone e decompone l'edificio che loro hanno costruito un edificio nel quale si entra da un posto a monte che ha un'organizzazione molto chiara a un certo punto si insinua un'apertura una specie di gigantesca fessura che poi fa sì che i livelli di lettura dello spazio sono per sempre trasformati lo stesso racconto visto da altre persone qui a Torino durante il festival di architettura uno scrittore e due architetti offre possibilità opposte è una grande occasione per capire come sono fatte le storie è una grande occasione per vedere l'altro lato della pagina quando mai ci capita di leggere qualche cosa guardare dietro e vedere come sono fatte le cose secondo loro si entra in questo edificio dall'alto una una bellissimo posto in cima una specie di scogliera con una vista perfetta bella sul sul mare o su quello che è a un certo punto c'è una piccola porta che non sembra condurre da nessuna parte ma ci mostra uno spazio sottostante gigantesco grande come l'altro dove i pilastri non sono più pilastri gli appoggi diventano sostegni dove improvvisamente vediamo che la parte sopra non era assolutamente l'unica e non era quella che diciamo si era scavata nella roccia oppure terza interpretazione ma ripeto di 70 80 o di più di questi 12 anni una un'organizzazione cristallina nella scrittura chiarissima diretta perfetta non c'è nessun stacco sfiducia non c'è nessun A e B ma secondo loro era un tentativo uno dopo l'altro ognuno di quegli stacchi che è successo uno ma ce ne potevano essere tanti in cui c'è sempre il desiderio di offrirci con sforzo ammirevole quasi la versione di una qualche storia che non sappiamo dove sarà per esempio un'altra storia che abbiamo racconto che abbiamo visto in molte circostanze coline come le Fanti Bianchi qui solo due esempi da una classe qui a Torino di liceo sono due persone che stanno cercando di risolvere prima di partire da una stazione in treno una questione nodosa di un'operazione da fare per lei se è da fare o non è da fare non si sa quale sia lui insiste lei resiste e il dialogo si finisce secondo i ragazzi del liceo a dare forma qual è la forma il peso di questa decisione da prendere quanto pesa quanto è grande come è fatta e come è sospesa sulla vita di loro due quindi questo è un edificio nel quale c'è un cubo nero che grava su una specie di corte ribassata per i ragazzi invece di Taipei la questione era che le due parti di queste due rampe che vanno da due livelli diversi senza mai incrociarsi non riusciranno mai a comunicare perché se si parte dallo stesso livello si arriverà nel livello opposto senza mai incontrarsi oppure Cavallo Bianco sì sì nel senso è un altro di quei racconti tra l'altro questo forse è il più breve in assoluto è una paginetta nemmeno all'interno del quale di nuovo c'è un personaggio un personaggio che racconta un personaggio che dice io tra l'altro impegnato al momento perché non sappiamo bene qual è il tempo del racconto che sul tempo ha un sacco di cose da dire sta praticamente facendo pratica una lingua italiana nel senso sta studiando nella lingua italiana sta inventando una serie di storie di storielle che come personaggio hanno questo cavallo bianco e a un certo punto mentre è a lezione riceve una telefonata da un suo amico che vive negli Stati Uniti e dice ma è vero che gira voce che la DDR sta forse per aprire magari momentaneamente il muro questa sera qua e lui dice ma forse non lo so magari non lo sappiamo e tutto il racconto in realtà è rivestito da una sorta di patina melanconica perché il personaggio dice se io davvero dovessi raccontare del 8 o 9 novembre dell'89 scusate non ricordo il giorno precedente dovrei cominciare raccontando del mio cavallo bianco cioè di questa persona qui in realtà il racconto che cosa fa? nel dire dovrei raccontare in realtà lo sta raccontando e va avanti e siamo di nuovo in un campo ampissimo di possibilità dove anche qui quello che resta di certo di sicuro è pochissimo e in realtà c'è un contorno questa è una sorta di vortice tutto intorno che riveste questa narrazione e queste sono due offerte strutturali di architetture dove sopra c'è una una specie di una gigantesca bacino artificiale d'acqua con una diga nella parte di sinistra enorme e dietro la diga c'è un edificio con finestre che danno dalla parte opposta sono dei piccoli studi per artisti non si affacciano verso sostanzialmente è vivere con alle spalle una massa d'acqua immensa in mane senza mai averne nessuna idea o sensazione o concezione ci sono dei passaggini tra tra questo strano edificio e la diga ma si vive nella totale inconsapevolezza di quello che sta a succedere perché lui dice continuamente ma se io dovesse perché questo è un'antologia di 25 racconti sul 25esimo anniversario del caduto del muro di Berlino e lui dice se io veramente dovessi dire cosa sta facendo quel giorno dovrei dire questo se io dovessi veramente alla fine accendono la televisione e in effetti c'è il telegiornale però tutto quel momento è una specie di autoreferenzialità il secondo progetto all'università della Svizzera italiana è invece un edificio sostanzialmente chiuso verso l'esterno non c'è nessuna visione è solo tutto all'interno che si sviluppa la sua vita una specie di corte interna incredibilmente popolata incredibilmente vissuta che non ha nessun contatto con l'esterno la particolarità del secondo progetto è che è stato fatto da una delle partecipanti è una ragazza che era cieca dalla nascita è cieca dalla nascita non ha mai visto e lei mi ha spiegato mi ha fatto capire che mi ha dato un'incredibile visione che sto usando una parola terribile chiedo scusa su come lei percepisce l'architettura lei mi ha detto io non ho mai visto un'architettura e non so che cosa sia io non so cosa sia il Pantheon non ho idea di che cosa sia un edificio ma io per esempio tornando al Pantheon se questa fosse Cecilia lei mi ha spiegato a una persona con una energia creatività pazzesca io mi avvicino agli edifici e a un certo punto percepisco che esiste qualche cosa che non è l'aperto sento che c'è un vuoto con il tatto sento l'aria che cambia di odore profumo l'umidità sento l'eco che cambia e mi faccio un'idea probabilmente della parte che lì potrebbe essere il prona o qualcosa cambia passo attraverso un ingresso mi accorgo che c'è una compressione a un certo punto sento e percepisco lo spazio più grande in sostanza per Cecilia io ho capito e lei mi ha spiegato il pantheon poteva essere completamente scavato dentro una montagna per lei non sarebbe cambiato assolutamente nulla perché lei sarebbe avvicinata allo stesso modo avrebbe sentito e ricostruito nella sua mente i vuoti con la stessa maniera e ho capito improvvisamente che questo è il nostro modo il modo di tutti di leggere le storie noi prendiamo un libro che è un ammasso di parole non abbiamo nessuna idea di quale sia la sua forma dobbiamo entrare man mano con ogni parola e ogni paragrafo noi ci ricostruiamo nella mente tutti quegli spazi e tutte quelle strutture è esattamente il modo di Cecilia di percepire lo spazio non vedendolo che mi ha fatto capire come noi ricostruiamo leggendo gli spazi delle storie capite anche perché non ha scelto il mio acquario e la mia piscina per quanto riguarda la ferita morta cioè anche questa cosa infatti non è presentato qui tra quelli degni di attenzione però è normalissimo cioè il primo salto il gita al faro di Virginia Woolf la prima cosa che è si pensa al faro poi dopo un attimo di pausa e ci si domanda se tra tutti gli elementi quello è quello più importante comunque io nel tempo ho dovuto mi è stato cioè mi sono cimentato anch'io con questa attività e al secondo piano del libro edificio ci sono 12 esempi di 12 romanzi che io ho letto e ho offerto la mia interpretazione dopo aver per anni laterato e parlato qualcuno mi ha detto perché non lo fai tu e io ho resistito per un po' e poi ho ceduto questo è uno di quelli è la chiave e volevo solo descrivervelo la chiave è un romanzo breve e architettonicamente incredibile è un uomo che vuole disperatamente comunicare a sua moglie desideri e idee e pensieri sul loro rapporto dal punto di vista dell'intimità della sessualità ma non ce la fa per cultura eccetera allora prende un diario scrive queste cose sul diario lo mette in un cassetto con la chiave lascia la chiave cadere per caso sperando che lei la veda lei la vede la trova va a leggere il diario inizia un suo diario e le prime righe del suo diario sono mio marito ha iniziato un diario so perché mi ha lasciato una chiave per terra ma io non lo leggerò mai e questo lo fa dopo averlo letto inizia così questo altalenarsi di di pagine di diario prima lui lei lui lei e noi come come dei testimoni incredibili di un'unità che non esiste di due libri che sono incastrati uno dentro l'altro ma le loro pagine non si toccano mai un'intimità totalmente assente sembra essere un edificio che è fatto di due mani di due ali che hanno piani che quasi potrebbero toccarsi ma non si toccano non c'è modo di passare da un piano all'altro non c'è modo di ci si compenetra senza toccarsi una sorta di incredibile e perfetta e terribile e fredda relazione e poi a un certo punto è arrivato nel 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 caos degli anni anche il fatto di dover trasformare tutto ciò in un libro che che trasmettesse il procedimento il processo non i risultati è stata una grande fatica si è spento lo schermo no e il desiderio era di creare un qualche cosa che accompagnasse le persone a fare una visita a condividere veramente la quantità di emozioni alle quali io ho fatto veramente da spettatore offrendo sostanzialmente solo il parco giochi dove andare a divertirsi e allora lì preso dall'ansia del non aver mai scritto iniziato a pensare mi è partito il dito a come organizzare se fosse un edificio un posto dove poter far sì che le persone sperimentassero e vivessero le cose che io avevo man mano nel tempo capito intuito che volevo trasmettere eccetera l'editor di il saggiatore sono stato molto fortunato perché era è un ragazzo che conosce molto ama la poesia e mi ha detto pensa delle stanze pensa dei luoghi intanto non ti metterà io ho capito che i libri non si cominciano dall'inizio e si finiscono alla fine sconvolgente come le architetture non si pensano dagli ingressi fino alle uscite allora ho iniziato a pensare a delle stanze ho iniziato a pensare a dei luoghi che volevo trasmettessero alcune di queste cose finché a un certo punto ho detto fortunatamente ma sai cosa questo è un posto da aprire a chiunque deve essere un museo l'ho organizzato in maniera il più chiaro possibile dove invece della leggenda c'è invece dell'indice c'è una leggenda con gli spazi che cosa troverete è un posto dove andare con estrema libertà guidati da una voce che potrebbe essere la mia ma non si sa ma la libertà è totale si può entrare uscire da dove si vuole fermarsi anche per il caffè guardaroba dove lasciare i pregiudizi e i cappotti e quindi stasera vorremmo che voi sostanzialmente vi avvicinaste a questa idea la parte che doveva essere breve è finita giustissimo giustissimo e diciamo che la presentazione di Matteo quella che era anche una parte interessantissima del corso quando lo lo teneva in parte è questa allo stesso tempo c'è un po' di curiosità o come dire di vedere in che modo il mio rapporto il rapporto delle persone anche con questo laboratorio è cambiato nel corso del tempo perché da studente partecipante a tutore poi a organizzatore per le scuole eccetera ora anche lettore cioè quindi ora è anche qualcosa che si può leggere quindi e si legge qualcosa che è anche qualcosa di incredibilmente vivo nel senso che come si fa a descrivere un laboratorio qualcosa che accade è un po' come descrivere una partita di tennis e non il manuale di come si fa la battuta il rovescio il dritto e quant'altro però sicuramente una delle chiavi interpretative è quello di immaginare questo libro come un edificio all'interno del quale si può entrare e non ha neanche quell'obbligo che a volte hanno i percorsi nei musei cioè che tu una volta entri ti senti anche quasi un po' in prigione perché quello è il percorso obbligato puoi uscire solamente di qua o di là Matteo in un certo senso durante la scrittura e durante il modo in cui la sua voce risuona durante la lettura ci invita quasi a dire no ma aspetta ora puoi fermarti ora puoi un attimo rilassarti puoi pensare immaginare e d'accordo tra l'altro viene ribadita con molta sicurezza e molta certezza all'inizio proprio il fatto che museo deriva da museo esatto ho sbagliato la pronuncia che è quel luogo dove appunto era diciamo più indicato soffermarsi e immaginare in maniera completamente libera in maniera completamente indipendente però c'era un'altra cosa all'interno del libro che mi ha incuriosito subito nel momento in cui l'ho letto e cioè la presenza delle note e ci sono tantissime note all'interno di questo libro note a piedi pagina per cui hanno anche una loro collocazione proprio spaziale e mi sono detto ma se questo libro ogni capitolo ha una sua indicazione per cui di un museo è il bookstore oppure di un altro museo è il terrazzo dove improvvisamente possiamo guardare fuori le note che cosa sono? le note ho pensato sono un po' quei momenti in cui non so mentre visitiamo un museo ci accostiamo a una persona magari siamo entrati insieme e sussurriamo all'orecchio qualcosa perché siamo alla ricerca anche in quel momento lì di magari un maggiore intimità una sensazione di maggiore vicinanza io volevo sapere come è andata con la scrittura con le note di questo libro è andata malissimo perché io apro molte parenti Olli non c'è stasera mia moglie se qualcuno di voi è in contatto con lei ditele che non ho parlato tanto fatemi sto favore che mi ha pregato io lo farò io lo farò no io ma è una no è una è una cosa che non si dovrebbe fare Francesco cioè sostanzialmente mi è stato detto in tutti i modi il libro era pieno di note perché il desiderio io avevo un grande terrore che di fraintendimento che però andrà avanti a essere ormai sono abituato cioè che che qui ci sia qualcosa da insegnare e che abbia a che fare con la critica letteraria o con cose di cui io non è che non abbia abbia interesse ma ce l'ho dopo cioè la viene tutto noi funzioniamo secondo me con prima incontriamo qualche cosa poi la elaboriamo cerchiamo di capirla poi la accumuliamo e creiamo un bagaglio di conoscenza poi dopo rincontriamo qualcosa la elaboriamo e poi la accumuliamo e questo procedimento è bello è naturale spesso però mi sono accorto in certe culture o mondi finiamo per mettere davanti la cosa che abbiamo accumulato come metro per vedere quanto sappiamo se sappiamo questo così o di più e le cose che sappiamo quindi il cosiddetto pregiudizio ma pregiudizio nel senso letterale ci pregiudica dal vivere le esperienze in maniera e quindi le note erano costantemente delle correzioni di dove stavo andando per il timore che il tono e tutto l'andare di questo esperimento finisse per essere pesante o che volesse insegnare qualche cosa il cosiddetto terrificante mansplaining e così via quindi è un commento costante per il senso no no infatti tra l'altro il libro in certi momenti non può fare a meno di parlare del libro stesso della narrazione stessa perché nel momento in cui si interroga sulla narrazione giustamente la voce di Matteo all'interno del libro si rende conto che sta narrando in quel momento e quindi narra di se stesso narra della narrazione però è anche vero che all'interno delle note si aprono poi forse gli squarci più calorosi di questa narrazione per calorosi intendo proprio da un punto di vista umano proprio una questione di vicinanza proprio perché a un certo punto quando credo sia nel primo piano quello della chiamiamola lezione mettiamola così c'è il discorso sulle finestre Matteo si prende anche un attimo il tempo per raccontarci come il nostro rapporto quello di tutti quanti noi esseri umani a un certo punto della nostra storia che poi anche è la storia con la S maiuscola è cambiato il rapporto con le finestre cioè del guardare fuori nel momento in cui storicamente era il nostro unico punto di accesso verso l'esterno perché eravamo chiusi in casa a fare i conti con una pandemia che per certi versi è ancora ancora in corso e questa cosa straordinaria di poter aggiungere qualcosa togliendola in realtà perché giustamente quando è raccontato magari qualcuno ha dato un colpo di piccone in un muro e quindi ha tolto qualcosa però voleva aggiungere qualcosa credo che sia diciamo così uno dei punti più interessanti del libro della narrazione però quella nota lì ci voleva io ho passato 15 anni a disegnare finestre mia figlia è nata che disegnava finestre dopo 15 anni mi ha chiesto papà per favore basta quando a scuola gli chiedevano che mestiere fai il finestraio cioè non se ne poteva più no io questa cosa l'ho portata avanti sempre più in profondità fino all'ultimo lavoro con Amnesty e le finestre sui rifugiati quindi ed era lì in mezzo a quel progetto che poi è successo era diventato evidente che la mia ossessione sostanzialmente era una risposta al fatto che effettivamente le finestre hanno sono tra i vari elementi architettonici magicamente quello con un potenziale narrativo più incredibile cioè mescola il tangibile con l'intangibile ciò che è reale apribile con quello che non possiamo toccare cambiare la vista che cambia continuamente in funzione del fuori ma anche in funzione del come noi ci buttiamo significati perché il significato non è una definizione il significato noi lo lanciamo anche verso le cose è una specie di rotazione continua e adesso è l'aspetto forse più bello interessante adesso più chiaro per noi tristemente di quanto in realtà l'architettura noi veramente la conosciamo tutti a prescindere dai benedetti del studio quello che serve di disciplina cioè il fatto di sentir dire io non so quell'edificio non so cosa dire bene perché non ho studiato non sono un esperto è sconvolgente perché noi nasciamo dentro delle stanze viviamo la nostra vita da una stanza all'altra spazi continuamente porticati piazze edifici a stanze come queste cioè voi sapete quanto è grande questo enorme salone lo sapete al momento in cui siete entrati ma non sapete se quello stile è forse più corinzio di qua ma chi se ne frega sostanzialmente in primis poi dopo ci interessiamo e andiamo magari ad analizzare però lo spazio che penetriamo e percorriamo e con il quale interagiamo è lo stesso quello è tutto ciò che ci permette di leggere un romanzo senza dover essere né scrittori né laureati in architettura però di fronte alle storie ci lanciamo ed è giusto di fronte all'architettura invece sento sempre sentito una specie di reticenza invece in realtà la conoscenza che viene fuori nei laboratori quando lo faccio con studenti di liceo che non hanno mai neanche immaginato di sapere che cosa sia o con persone che di una certa età mia età o più grandi che non hanno mai né disegnato né che mi hanno progettato persone che non vedono a un certo punto scopriamo che l'architettura invece ci ha permesso negli anni di avere un calderone immenso di conoscenza di intuizioni che non abbiamo mai toccato quindi assistere al fatto che non si sapeva di sapere così tanto è uno dei lati più belli e sorprendenti del laboratorio che non si sapeva di sapere così giù si è importante è uno dei lati di sapere così non si sapeva di sapere così che non si sapeva Grazie.